Presentato il progetto Vomero Free Wi-Fi presso la sala consigliare Silvia Ruotolo della Quinta Municipalità. L'iniziativa in accordo tra Blue Wireless e Unico Vomero ha visto la realizzazione di un'infrastruttura di rete Wi-Fi che permetterà di distribuire il segnale internet in vaste aree pubbliche del Vomero a costo zero per il cittadino, tra queste Piazza Van Vitelli e Piazza Vernini. È una rete che permetterà al cittadino di navigare, ecco questo è da sottolineare, in modo gratuito, 24 ore su 24, senza limiti di tempo e utilizzando un'applicazione assolutamente esclusiva, di cui deteniamo brevetto, che permette una navigazione estremamente semplificata. Praticamente l'utente si registra una sola volta da noi, non ha bisogno di ricordare password e username e continua a navigare free. La connessione degli utenti potrà avvenire tramite qualsiasi dispositivo dotato di accesso Wi-Fi, come telefoni cellulari, smartphone, personal computer e senza alcun limite di tempo, previa opportuna registrazione e una tantum accedendo agli hotspot Blue Wireless presenti sul territorio. Diventa fondamentale avere quindi una vetrina all'interno del quartiere. Noi abbiamo istituito il primo portale a disposizione del quartiere Vomero, con tutte le attività commerciali, le associazioni no profit, abbiamo per esempio Unicef e anche le libere professioni. Tutto quello che il Vomero può offrire oggi è assolutamente in rete, con mini siti disponibili, con offerte e professionalità a disposizione della Municipalità, del Comune di Napoli e della Regione Campania. Il Wi-Fi si inserisce in questo contesto e cerca ancora di più di rendere attrattivo il quartiere Vomero anche nei confronti dei turisti. Il nostro obiettivo è portare persone che prima non venivano al Vomero e che oggi invece devono venire al Vomero, devono rimanere al Vomero, devono spendere al Vomero.